cari amici concittadini e mi rivolgo soprattutto ai giovani che sono la speranza e il futuro di grado è da semplice cittadino che mi rivolgo a voi il valle principale è un biglietto da visita importantissimo per la nostra città non va stravolto gli alberi sono irrinunciabili non vanno buttati via i metodi e le decisioni su questa vicenda non mi sembrano corretti e non mi piacciono per niente protestare contro lo smantellamento del nostro bel viale è un atto di civiltà sarò presente alla manifestazione di protesta e porterò con me la mia famiglia facciamo sentire la voce dei cittadini ci vediamo sabato dalle 20 in poi davanti al comune e poi in viale cittadini sempre sudditi mai